Per scongiurare la chiusura del pronto soccorso dell'ospedale Piemonte spunta la proposta del gruppo consigliare Udc, che oggi in conferenza stampa ha illustrato un ordine del giorno con il quale si chiede l'impegno della deputazione regionale del partito centrista. L'idea è quella di togliere la struttura sanitaria dalla gestione del papardo ed affidarla invece all'Asp. L'azienda sanitaria provinciale, così come fa in altri comuni dell'isola, potrebbe mantenere in vita il pronto soccorso generale. E' un modo questo, spiega il consigliere Libero Gioveni, per aggirare i vincoli imposti dal decreto Balduzzi e le normative regionali, che non lascerebbero alcuna via di scampo di fronte alla riduzione dei posti letto, no dunque all'accorpamento con il papardo. Diversa è la questione sulla fusione con il neurolesi. L'Udc non chiude le porte all'istituto, ma ritiene che, dopo il passaggio del Piemonte all'Asp, si possa sottoscrivere un protocollo d'intesa tra l'azienda sanitaria provinciale e l'IRCS, con il quale si concede parte dei padiglioni per le attività riabilitative. Su questi punti i consiglieri comunali chiedono l'impegno dei deputati per costruire una nuova proposta sanitaria per Messina, in fino riferimento all'ex Margherita, con un appello alla Regione, concedere al Comune i locali oggi abbandonati, che Palazzo Zanc potrebbe riutilizzare destinandoli ad altre attività in base alle esigenze della città.